Tragedia sfiorata questa mattina a Bari. Per cause ancora da accertare, un mezzo dell'AMIU ha travolto un ponteggio realizzato per lavori di ristrutturazione ad una palazzina. Non si registrano per fortuna feriti. L'episodio è avvenuto in via Andrea da Bari, una zona centrale del capoluogo, dove il mezzo ha agganciato parte di un'impalcatura, la cui sistemazione era ancora in via di completamento, danneggiando la parte contigua alla strada. L'imponente impalcatura copre la facciata da ristrutturare di un palazzo di sette piani. Sul posto sono giunti agenti di polizia municipale, rappresentanti dell'impresa a cui sono affidati i lavori e i vigili del fuoco. Via Andrea da Bari è stata chiusa per alcune ore, traffico in tilt e auto incolonnate nelle ore di punta di apertura degli uffici e delle scuole. Per fortuna, riferiscono residenti e commercianti, al momento in cui il mezzo ha agganciato l'impalcatura verso le 7.50 non c'era nessuno per strada.